a partire ringrazio in anticipo tutti quelli che parteciperanno oggi saluto come al solito spendiamo qualche minuto per i saluti in maniera da consentire a tutti di connettersi a questa diretta che oggi è particolarmente importante ci tengo particolarmente tanto ho visto che in tanti avete commentato l'annuncio di questa diretta e ci tengo davvero a spiegare un po di cose perché quello che è successo ieri è una cosa importante che va spiegata la raccontata con obiettività non in maniera faziosa anche perché mi piacerebbe una volta per tutte spiegare a tutti voi come funzionano certi meccanismi televisivi e allora prendiamoci un paio di minuti per i saluti chiedo scusa a tutti quelli che poi mi dicono perché saluti per di tempo a salutare per consentire a tutti di venire a partecipare a questa diretta saluto Giuliano Di Cicco saluto l'amico Jean-Pierre De Gaulle scusami se oggi mi ha chiamato Jean-Pierre è un nostro attivista sardo ma io non potevo rispondere in quel momento saluto Giovac saluto Mena Caputo Marco Speciale Franco Sardu sempre dalla Sardegna l'amico Benedetto Bruno da Paternò Franca Rita Pirodi Tonia Sigladi il grande Giacomo Vella da Siculiana Maria Rosaria Mollicone ciao saluto Florinda Dejana saluto Domenico Sorace in Enca Capone saluto Mario Sciacca Nino Gammalleri Giuseppina Tardo Cesare Barrovecchio Alessandra Bagnato ciao alla grande Lidia Adorno che è una nostra portavoce al Consiglio Comunale alcuni di quelli che ho salutato saluto Antonio Gussio saluto Anna Parisi saluto Massimo Costanza Maria Grazia Sanguedolce parleremo di quello che è successo ieri Maria Grazia Sanguedolce è un attivista catanese capisco cara Francesca Cancilla che tu sia molto nervosa per quello che è successo ieri saluto Gianfranco Benanti Denise Dovidio Vittoria Papale saluto Stefano Longhità il nostro grande portavoce al Consiglio Comunale di Gravina io dico sempre che i portavoce ai piccoli consigli comunali li cito spesso Simona Pulvirenti Giovanni Finocchiaro Nuccio Tropi Giusi Rannone Sebastiano Catania noi abbiamo in provincia di Catania tanti unici consiglieri nei vari consigli non solo in provincia di Catania in tutta Italia e voi non sapete quanto è prezioso il loro lavoro io li cito spesso nelle mie dirette chiaramente conosco meglio quelli della mia zona ma ce ne sono tanti in tutte le città italiane noi dobbiamo sempre pensare a quanto sia importante il lavoro che fanno i consiglieri comunali i silindaci perché è il primo contatto fra lo Stato e il cittadino fra il cittadino e le istituzioni è proprio il Palazzo del Comune il Consiglio Comunale e noi non ci dobbiamo mai dimenticare di questo saluto l'amico Stefano Sarcinelli Valentina Mattarella ciao Valentina mi fa piacere che tu sia connessa saluto Mirko Dentici insomma ci siamo Agostino Marottoli ciao siamo già 3500 io vi invito come sempre a condividere questa diretta a condividere la mia pagina saluto Germano Valente da Roma sempre presente grazie Giuseppina Tardo è stato è stato doloroso partiamo dal fatto che la diretta che è la diretta scusate che la la trasmissione di ieri sera non è l'arena condotta da Massimo Giletti è stato è stata problematica e dolorosa è stato doloroso per me parteciparvi come sapete dobbiamo allora cerchiamo di fare chiarezza io sto tentennando prima di partire per un motivo molto semplice perché poi so che dovrò ripetere le cose state aumentando molto rapidamente siamo quasi arrivati a 4000 magari aspettiamo ancora un po' e poi iniziamo davvero a parlare di quello che è successo ieri nel frattempo leggo un po' dei vostri interventi Silvana Morgillo devi dire qui quello che nel covo degli infami va bene ok ricordiamo che Basentini al DAP lo vuole la Lega scrive Mara Mare, Angelo Ciaiola sempre in prima fila grande Angelo oggi devi essere incazzato no guarda sono abbastanza serio commenti di Mario Giarrusso contro Bonafede questo chiaramente dovete chiederlo a Mario Giarrusso non a me non è possibile prendere tranelli di questo genere mi scrive Tony Giordano sai tranelli si fanno io ricordo che la settimana precedente c'era stata un'altra trasmissione di Giletti dove veniva messo sotto accusa in qualche modo il ministro Bonafede, il governo il lavoro fatto dal governo senza neanche una voce contraria io credo che sia stato giusto io sono stato invitato allora partiamo da questo assunto che è molto importante perché purtroppo quello che è successo ieri è molto molto particolare stavo per dire molto grave sicuramente è molto importante perché è successo che un magistrato notoriamente molto riservato come Di Matteo dopo due anni si è intervenuto telefonicamente a un programma televisivo per raccontare un episodio un contatto tra lui e Bonafede la possibilità di collaborare col ministero che poi è sfumata poi è intervenuto Bonafede adesso parleremo di questo però c'è una cosa da dire qualcuno sta sfruttando quello che è successo lo dico molto serenamente qualcuno del Movimento 5 Stelle sta sfruttando quello che è successo per attaccare me ora io voglio bene a tutti ma c'è un limite anche alla pazienza umana e a tutto perché chiaramente qualcuno dice ma perché c'era già russo a parlare di giustizia? c'era già russo a parlare di giustizia perché io vado nei programmi televisivi solo ed esclusivamente quando la comunicazione del Movimento 5 Stelle sceglie che io debba andare se io andassi quando voglio io andrei ogni giorno perché mi invitano ogni giorno invece io vado quando la comunicazione e ripeto come previsto dal nostro regolamento firmato al momento della candidatura come previsto dallo statuto del Movimento 5 Stelle saluto il portavoce Stefano Buffagni mi fa molto piacere che si connetta iniziamo chiarendo questo punto se Vino Giarrusso va ospite in un qualunque programma televisivo o rilascia un'intervista a qualunque giornale io parlo per me lo faccio perché autorizzato anzi perché come dire convocato dal nostro gruppo comunicazione che viene pagato per quello e che sceglie chi va è chiaro? io vengo imitato molto spesso recentemente sono andato molto poco in televisione perché mi è stato chiesto solo di andare quelle volte lì ero stato ad Agorà dieci giorni fa sono stato imitato da Giletti so benissimo che Giletti organizza le trasmissioni televisive in un certo modo ma sono anche consapevole del fatto che secondo me bisogna andare in tv se il Movimento 5 Stelle ti manda se il gruppo comunicazione ti manda in tv è giusto andare per portare le nostre ragioni perché credo che anche ieri nonostante sia stato veramente organizzato un agguato e spiegherò immediatamente perché si tratta di un agguato fosse giusto ricordare delle cose io devo dare delle spiegazioni saluto Gianni Manfredi che scrive è incredibile che tu debba dare delle spiegazioni saluto Moena Scala saluto Roberta Schillaci due portavoci molto brave siciliani io devo dare delle spiegazioni perché io ho una responsabilità sono un portavoce non sono un libero cittadino che va in giro va nei programmi parla o va in tv o va a fare interviste da qualche parte io parlo da portavoce del Movimento 5 Stelle siccome ho una responsabilità non solo quella dei 117.211 cittadini siciliani e sardi che hanno scritto il mio nome su una scheda facendomi l'onore di essere il più votato in queste europee e il più votato della storia del Movimento 5 Stelle ma non ho soltanto quella responsabilità io ho un'altra responsabilità che è quella di dire la verità al popolo italiano che spesso viene truffato viene ingannato da programmi televisivi giornali quotidiani settimanali che raccontano una falsa storia anche in casi gravissimi scusate o in casi gravissimi pensiamo a determinate stragi che ci sono state in Italia a determinati furti clamorosi a determinati latrocini a determinate collusioni fra lo Stato e la mafia o in situazioni di grande problematicità come quella dei boss che sono stati scarcerati scarcerati non significa liberati significa mandati agli arresti domiciliari è importantissimo che si stabilisca la verità su questo e io ieri ho cercato di farlo e adesso vi spiegherò perché quella trasmissione di ieri a mio parere è stata organizzata come un agguato non come un qualcuno c'è qualcuno sempre che mi telefona durante una diretta non come un programma televisivo dove si raccontava una verità non è stato questo ieri ieri c'è stato un agguato c'è stato un agguato al lavoro del governo c'è stato un agguato alla persona del ministro Alfonso Bonafede che stimo e che difendo non per principio perché se Alfonso Bonafede sbaglia io direi Alfonso Bonafede in Buonafede perché è una persona corretta ha sbagliato se Alfonso Bonafede facesse un errore o mi deludesse io lo direi perché sono una persona onesta intellettualmente ma non è stato questo il caso è chiaro? le responsabilità sono chiare e adesso le le esplicheremo ma la settimana precedente all'arena di Massimo Giletti era stato organizzato un doppio agguato dove non c'era nemmeno un esponente vicino alla maggioranza vicino al governo che avesse avuto la possibilità di dire la propria e quindi questa settimana ero stato designato io dal nostro gruppo comunicazione da chi decide da chi comanda chi va in tv per andare a spiegare come stanno le cose allora partiamo da questo chiedo a tutti voi di avere pazienza questa diretta durerà circa un'ora fino alle 19 chiedo a tutti voi di avere pazienza perché dobbiamo spiegare le cose allora primo punto è stato detto da Salvini e dalla Meloni in particolare in questi giorni in queste settimane ma in questi ultimi giorni in questa ultima settimana che in seguito al cura Italia per l'emergenza covid erano stati scarcerati dei boss questo è falso è un falso storico è vergognoso il fatto che sia stato detto perché questo è un modo per imbrogliare i cittadini nel decreto cura Italia che prevedeva anche la possibilità di evitare i contagi nelle carceri e quindi di valutare pene alternative in caso di problemi di sovraffollamento di contagio nelle carceri c'era scritto esplicitamente esplicitamente che sono esclusi da quei benefici non benefici da quelle pene alternative dalla possibilità di scontare pene alternative per evitare contagi di covid sono esclusi tutti i reati inerenti l'associazione mafiosa tutti i reati inerenti l'associazione mafiosa quindi tutte le persone in carcere per reati inerenti l'associazione mafiosa non possono avere secondo il decreto cura Italia quei benefici più tutte le persone in carcere per violenza domestica per stupro per pedofilia per tutti quei reati che tornando in casa potrebbero essere reiterati quindi chi ha raccontato facendo dei video facendo dei meme su facebook facendo delle interviste che il cura Italia scarcerava i mafiosi ha detto una bugia al popolo italiano ed è una bugia molto grave perché si gioca su una cosa così importante come la lotta alla mafia per mentendo per cercare di portare consenso a sé e chi è che lo ha detto lo hanno detto soprattutto i partiti della Lega e di Fratelli d'Italia che hanno al loro interno esponenti con indagati per gravissime accuse chiedo scusa mi stanno telefonando tutti non so se lo fanno apposta hanno Fratelli d'Italia e Lega al loro interno esponenti indagati o arrestati o con richiesta d'arresto pendente per gravissime accuse di mafia o di indrangheta nel blitz fatto da Gratteri qualche settimana fa è stato richiesto l'arresto per un consigliere regionale di Fratelli d'Italia calabrese che si chiama Creazzo ed è stato richiesto l'arresto per un senatore di Forza Italia sempre calabrese e in passato ricordo ne ha parlato anche la nostra portavoce Valentina Palmeri alla regione siciliana ha fatto una grande battaglia su questo che Siri ed Arata hanno avuto contatti evidenti con dei personaggi con Nicastri che è considerato il prestanome di Matteo Messina Denaro considerato il grande capo della mafia siciliana è chiaro questo? a me stupisce che ieri Massimo Giletti prima di parlare di scarcerazioni abbia avuto ospite Giorgia Meloni e non ha avuto l'intelligenza il dubbio l'idea di chiederle cara Giorgia Meloni siccome fra poco parleremo di mafia mi spieghi perché non hai espulso dal tuo partito quelle persone per le quali è stato richiesto un arresto per Ndrangheta Creazzo per altro parente di boss draghetisti mafiosi della Calabria stiamo parlando di un consiglio regionale sono accuse molto gravi documentate è un blitz fatto da Gratteri perché Massimo Giretti non ha chiesto nulla a Giorgia Meloni su questo ce l'aveva lì presente ok? questo è il primo punto da dire quindi ricordiamoci che per il cura Italia non è stato scarcerato nessuno nessuno e nessun esponente del Movimento 5 Stelle è mai stato indagato per reati così infamanti e se lo fosse verrebbe cacciato all'istante perché questo è il codice etico del Movimento 5 Stelle che si differenzia da quello di altri partiti che storicamente hanno avuto legami dimostrati con la mafia ok? secondo punto in tutte le ordinanze di scarcerazione che vengono citate ieri Giretti ha fatto quel grande eh come si dice scusate tabellone elettronico con i nomi con i cognomi Zagaria Iannazzo Bonura eccetera a parte che Iannazzo è sbagliato perché Iannazzo è in custodia cautelare e quindi il Ministro non ha nulla a che fare con i provvedimenti di custodia cautelare che sono di esclusiva pertinenza di quel giudice quindi la custodia cautelare non ha niente a che fare né col cura Italia né con nient'altro è una decisione discrezionale del giudice ma lasciamo stare il caso di Iannazzo i 341 bis scarcerati e i 300 e passa diciamo codice di alta sicurezza scarcerati sono stati in tutte le ordinanze seguitemi in tutte le ordinanze scarcerati in base all'articolo 147 del codice penale che esiste da svariati decenni che non è stato modificato dai governi che hanno preceduto questo e cosa dice? dice che chi ha gravissimi problemi di salute può essere diciamo può scontare agli arresti domiciliari una parte della detenzione la parte finale della detenzione quindi il cura Italia e la discrezionalità del Ministro su questo non c'entrano assolutamente nulla chiariamolo diciamolo a tutti un Ministro non può decidere se scarcerare o meno né scarcerare né non scarcerare un Ministro non ha questa facoltà lo decide il giudice di sorveglianza e lo ha deciso in base a un articolo 147,2 del codice penale che esiste da svariati decenni e che tutti i governi precedenti non hanno nemmeno pensato di modificare è chiaro? perché si è fatto ieri un processo in contumacia ad Alfonso Bonafede e io posso criticare anche Alfonso Bonafede non posso accettare che si faccia un agguato televisivo allora che cosa è successo ieri perché vi dico come funziona un agguato televisivo la trasmissione era accittata così prima si è fatta una bella sviolinata a Giorgia Meloni e non si è chiesto nulla a Giorgia Meloni né di quello che fa nel suo partito né di tutti gli esponenti del suo partito indagati accusati per accuse gravissime anche per fatti di mafia non una parola su questo un atteggiamento molto cordiale da parte del presentatore Massimo Giletti non un'alzata di voce non una contraddizione ma interrotta a Giorgia Meloni per carità perché vi dico questo perché la differenza di trattamento che utilizza il presentatore fra un ospite e un altro vi racconta moltissimo io ho studiato questo nella vita ho studiato comunicazione quando andavo all'università modestamente avendo lavorato in tv ho delle competenze su questo e vi assicuro che l'impressione che il pubblico riceve da una trasmissione televisiva da un talk show politico dipende da due cose fondamentalmente chiaramente dall'abilità nel raccontare le cose per carità certo ma dipende uno dall'atteggiamento del conduttore due dagli applausi del pubblico o meno e siccome il pubblico non c'è perché adesso c'è il coronavirus infatti vi ricordate che io sputtanai qualcuno che comandava gli applausi solo a un ospite e non a null'altro vi ricordate Nicola Porro nel suo programma io da Iena feci una ripresa durante una pubblicità a una tipa del pubblico che mi disse io volevo applaudire lei e non quell'altro ma siccome a me mi danno 25 euro per venire qui non posso farlo perché mi hanno detto prima applaudite quello di Forza Italia non applaudite già russo ve lo ricordate non è che mi sto inventando niente l'ho filmato e quindi carta canta diciamo anzi video in questo caso canta allora siccome oggi il pubblico non c'è è l'atteggiamento del presentatore che fa l'opinione del pubblico a casa e ieri che cosa ha fatto Massimo Giletti ha iniziato accusando di fatto il governo facendo un tabellone elettronico gigantesco dove venivano messi tutti i nomi di tutti gli scarcerati come se questo governo o il ministro Alfonso Buonafede a fosse responsabile di quelle scarcerazioni e non lo è b avesse in qualche modo messo nei guai l'Italia perché a causa della loro negligenza della sua a causa delle scelte del governo delle scelte del ministro Buonafede siano stati liberati quei boss o presunti tali questo è l'impostazione di un agguato non è l'impostazione di un programma televisivo perché se avesse fatto un programma televisivo fatto bene avrebbe in maniera corretta obiettiva primo avrebbe dovuto dire sono state liberate queste persone lo sapete in base a cosa a una legge che esiste da tanti decenni e che aveva visto liberati in passato tantissimi boss e contro la quale il Movimento 5 Stelle si era battuto perché questa è la verità è chiaro esattamente il contrario di quello che ha fatto trasparire Giletti dicendo questi sono i boss liberati per colpa di questo governo capite la gravità di questo poi chi ha invitato Giletti ha invitato Martelli ha invitato Luca Delese che è un opinionista che spesso va lì peraltro ci siamo parlati più di un'ora al telefono poco fa e ha invitato Maresca un magistrato e poi De Magistris e poi il capitano ultimo eccetera e c'ero anche io in collegamento cosa succedeva ieri perché vi parlo di agguato perché Giletti ha impostato la trasmissione innanzitutto raccontando con quella scenografia la scenografia è accusiamo Bonafede e accusiamo il governo di avere liberato i boss è chiaro? anche se è falso questo questo non ha nessuna attinenza con la realtà ma l'impatto che ha nello spettatore quel bel cartellone elettronico gigante con scritti i nomi dei boss liberati e le parole del conduttore l'impatto che hanno è instillare nella mente dello spettatore l'idea che è stato il governo e che è stato il ministro Alfonso Bonafede a scarcerare i boss e questo è falso perché non corrisponde all'età da un punto di vista legale legislativo ok? poi che cosa è successo? ha dato la parola per primi a Telese a Martelli a De Magistris che hanno fatto le loro accuse al governo al ministro Bonafede in maniera abbastanza esplicita cosa è successo? poi ha dato la parola a me che volevo semplicemente spiegare come stavano le cose ma non mi ha chiesto Gianrusso cosa ne pensi mi ha chiesto Gianrusso ma secondo te Basentini doveva essere cacciato subito o è stato meglio che si sia dimesso lui o lo doveva cacciare prima Bonafede che è una domanda capziosa in sé perché io se vengo ospite da te devo avere la possibilità di dire la verità su quello che è successo non di rispondere a Pappagallino alla tua domanda che vuole assolutamente spostare il focus per confermare l'impostazione del programma era come quando si parlava di reddito di cittadinanza e ci facevano vedere che su due milioni e mezzo di persone beneficiate c'era un criminale e due criminali cosa che nella vita c'è ci sono pure i falsi invalidi per cui per carità ma nessuno pensa ad abolire le pensioni di invalidità oppure se c'è un primario di un ospedale che ruba sulle forniture nessuno pensa a chiudere gli ospedali è chiaro? eppure sul reddito di cittadinanza è fatto questo e ieri si è fatta la stessa cosa perché appena io ho iniziato a parlare che cosa ho detto? quello che vi ho detto prima a voi ho detto spieghiamo che il cura Italia non ha scarcerato nessuno che le scelte del magistrato sono indipendenti che l'articolo 147 del codice penale non ha niente a che fare con l'attività di questo governo ma esiste da decenni ed è stato usato anche purtroppo malavitosi e bossi nei decenni passati che il Movimento 5 Stelle si è opposto e voleva cambiare perché come sapete per decenni ci hanno chiamato manettari ci hanno chiamato giustizialisti ci hanno detto che eravamo degli incivili ricordo l'articolo di Mattia Feltri quando Alfonso Bonafede volle cambiare la prescrizione dissero attenzione Bonafede è un manettaro Bonafede è un analfabeta del diritto Bonafede che è un laureato ingiustizialisti si può contestare tante cose ma Bonafede il diritto lo conosce è chiaro allora che cosa hanno fatto loro siccome io iniziavo a parlare e a spiegare la verità la differenza di atteggiamento di Giletti fra me e gli altri ospiti era evidente mi strillava contro mi interrompeva mi parlava sopra e io ero qui da casa mia a Bruxelles come si dice collegato con Skype perché purtroppo a causa del coronavirus i collegamenti si possono fare solo a distanza a parte che io sto qua diciamo in quarantena e ho anche il mio dovere da fare ma un conto è quando vai lì un conto è quando sei collegato con lo studio con una telecamera professionale un conto è quando sei su Skype io ero collegato su Skype e non faceva altro Giletti che parlarmi sopra che interrompermi che sminuire tutto quello che dicevo non perché fosse falso io non poteva dire è falso è chiaro perché io dicevo la verità e lui lo sa però mi diceva ogni tre secondi sì vabbè ma parliamo di altro sì vabbè ma che c'entra questo come che c'entra allora stiamo facendo una trasmissione che parla del fatto che la mafia è un problema e non deve essere in qualche modo in nessun modo agevolata e io non ti posso dire perché sono stati scarcerati quelli perché è chiaro che il messaggio suo era quello di dire attenzione quelli sono stati scarcerati per colpa del governo per volontà del governo per volontà di Bonafede quasi a voler dire che Bonafede in qualche modo fosse buono tra virgolette con i mafiosi questo è infame questo è un'infamità è chiaro è un'infamità perché io vi dico che ho cercato di dirlo ieri ma lo voglio ribadire qui Alfonso Bonafede ha firmato se ben ricordo 686 41 bis perché il 41 bis deve essere ordinato diciamo così dal ministro ok e Alfonso Bonafede ne ha ordinati 686 in meno di due anni credo che sia in assoluto il ministro che ne ha ordinati di più a causa di questo ha ricevuto gravi minacce a causa di questo è sotto scorta H24 il dottor Bonafede il ministro Bonafede il nostro attivista Alfonso Bonafede è chiaro questo e allora si può criticare per carità ma non si può farlo passare per uno che è vicino alla mafia o che ha paura della mafia perché sono accuse infamanti allora cosa è successo siccome io ho iniziato a parlare di questo chiaramente sono stato stoppato Giletti mi parlava sopra insomma la tattica era la solita poi è successo che il programma è andato avanti e andando avanti si è continuato a dire che siccome Basentini che era un signore del DAP insomma per farvela breve cosa è successo che questo DAP certamente ha commesso degli errori e infatti si è dimesso e quando un DAP si dimette il ministro evidentemente si dimette perché il ministro evidentemente avrebbe voluto rimuoverlo questa è la mia analisi o si è reso conto di avere fatto una grande cazzata o Bonafede gli ha detto guarda io ti voglio rimuovere perché non sei stato all'altezza e questo il governo Conte nella persona del ministro Bonafede lo ha fatto immediatamente ma c'è di più proprio perché erano successe queste cose c'era stata queste scarcerazioni il giovedì cioè pochi giorni dopo giovedì scorso quattro giorni fa Alfonso Bonafede ha emesso un decreto dove prevede che nel caso in cui ci siano altre richieste di pene alternative cioè di domiciliari per i boss il giudice ha l'obbligo non solo di avvisare il DAP ma di sentire la procura nazionale antimafia è chiaro e la procura distrettuale che ha istruito quel relativo caso di 41 bis o di alta sicurezza cioè per essere chiari cosa succedeva prima il giudice vuole mandare ai domiciliari perché sta male un detenuto al 41 bis o di alta sicurezza quindi legato mafia e quindi scriveva al DAP ok chiedendogli ci sono situazioni alternative se non lo devo mandare a casa ai domiciliari oggi invece grazie all'azione di Bonafede questo non basta più dovrà sentire la procura nazionale antimafia e quella procura distrettuale che ha ordinato quell'arresto cioè se un detenuto sta un detenuto siciliano un mafioso siciliano di Caltanissetta faccio per dire è stato messo in carcere a Parma perché chiaramente magari per tenerlo lontano dagli altri mafiosi lo si isola in un carcere come quello di Parma poi il giudice che quando il detenuto chiede la pena alternativa cioè i domiciliari magari il direttore del carcere di Parma o il giudice di Parma non sa qual è la condizione di quel detenuto quindi grazie all'intervento di Bonafede deve assolutamente sentire il procuratore distrettuale che ha ordinato quella misura antimafia per quel condannato quindi quello di Caltanissetta per capirci perché quello di Caltanissetta lo conosce quel mafioso sa che tipo di mafioso è che pericoli diciamo che rapporti ha sul territorio che tipo di pericoli potrebbe avere metterlo ai domiciliari eccetera questo lo ha fatto prontamente Bonafede con un decreto giovedì anche questo io ho cercato di dire e anche su questo sono stato in tutti i modi interrotto naturalmente ci sono state dei pezzi diversi a un certo punto io mi sono permesso di dire perché Giretti ha detto a un certo punto io ho perso degli amici per la mafia ha fatto un monologo prima mi ha scusato a me di fare monologhi poi inizia da fare un monologo lui dicendo come al solito io ho perso amici per la mafia gente morta e quindi e quindi è colpa vostra perché questo è il messaggio dietro al che io gli ho detto no guarda anche io ho perso persone care per ragioni di mafia sono stato minacciato personalmente ho vissuto in una città che è stata stroncata dalla mafia perché tutta la Sicilia Catania Palermo Messina tantissime città siciliane e non solo siciliane hanno vissuto una cappa di sottosviluppo a causa della mafia commercianti che sono stati uccisi o che hanno dovuto cambiare mestiere sono stati costretti a vendere il negozio perché non potevano pagare il pizzo costruttori che sono stati costretti a fallire perché gli appalti andavano agli altri o perché gli chiedevano il pizzo perché davano fuoco ai loro cantieri perché facevano le minacce questa è la mafia una cultura di sottosviluppo alcuni quartieri resi dei fortini mafiosi un livello di spaccio di droga terrificante in molte città italiane insomma questa è la mafia è stata la mafia nella mia infanzia quando io ero bambino a Catania siccome c'era la guerra di mafia si arrivava ad oltre 100 omicidi l'anno era difficile uscire la sera la gente aveva paura ad uscire la sera perché vuoi non vuoi si sparava per strada quindi io sono il primo ad essere drammaticamente colpito da tutto ciò che riguarda la mafia e l'ho sempre detto apertamente non so se è chiaro questo mi pare che chi mi abbia seguito può confermarlo sia prima quando facevo il giornalista che adesso poi ho avuto anche la fortuna di scrivere delle fiction che ricordavano degli eroi antimafia come Boris Giuliano eccetera eccetera ma torniamo al punto nel momento in cui Giletti ha continuato battendosi il petto a dire faccio il monologo io ho perso gli amici e basta avete liberato questo avete liberato questo avete avete chi avete cosa chi avete c'è un articolo del codice andiamo a cambiare quell'articolo perché non lo dice nessuno che ci hanno sempre detto che siamo dei giustizialisti in quel momento io ho detto scusami Massimo ma se premi così tanto ci tieni così tanto alla lotta alla mafia perché a la Meloni non hai chiesto nulla che ce l'avevi in trasmissione prima di me sui suoi indagati per mafia perché non li espelle perché la Lega si tiene dentro Siri e Rixi che avevano i rapporti Arata con i Castri il re dell'eolico presta nome chiedo scusa presta nome di Matteo Messina Denaro considerato il capo della mafia perché non gli hai chiesto nulla perché la Lega non li espelle poi ho detto Salvini ha raccontato che questi sono stati messi fuori dal Curitalia lo sai che non è per dice beh ma non l'ho raccontato io ma perché ogni volta che tu inviti Salvini e la Meloni queste domande non gliele fai come mai gli ho chiesto e lui si è infuriato e quindi mi parlava ancora più di sopra mi toglieva la voce si incazzava perché io parlavo ma invece era la domanda giusta perché se tu tieni così tanto la mafia alla lotta la mafia da batterti il petto come un pazzo e hai la segretaria di un partito che è pieno di indagati per mafia gli avresti dovuto chiedere a lei perché non ha espulso i suoi anziché accusare Alfonso Bonafede di cose sulle quali non ha responsabilità Alfonso Bonafede è chiaro? questa è la vergogna dell'informazione italiana questo si chiama agguato tratti coi guanti bianchi qualcuno che ha persone indagate per mafia nel suo partito e non le spelle e poi accusi Alfonso Bonafede di cose sulle quali non ha colpe si può criticare Alfonso Bonafede si può criticare il DAP si può criticare il governo Conte si può criticare Dino Giarruso si può criticare tutti quelli che cazzo volete del Movimento 5 Stelle ma non puoi accusarli di cose su cui non hanno responsabilità e questo non è giusto soprattutto quando non hai hai fatto finta di niente quando hai ospitato la segretaria di un partito che ha al suo interno persone condannate o indagate per gravissimi reati legati alla mafia compreso un consigliere regionale della Calabria che si chiama Creazzo e non ne ha espulso manco mezzo e tu non gli hai detto niente ridevi sorridevi facevi l'amicone allora non sei sensibile alla mafia allora strumentalmente vuoi colpire una parte politica questo si chiama agguato è chiaro? questo mi fa schifo perché non si fa così informazione non si può fare così informazione è chiaro? poi cos'è successo e veniamo al dunque a un certo punto c'era pure il capitano ultimo e siccome il capitano ultimo parlava e chiaramente il capitano ultimo luci e ombre per carità però è stata una persona che ha contribuito in maniera importante alla cattura di Riina e quindi è stato giusto farlo parlare nessuno lo interrompeva io ho detto posso fare una domanda a ultimo e Giretti un po' stufato avete visto perché poi quello il messaggio che passa è l'atteggiamento del conduttore ha detto ah ma ora pure le domande ora dobbiamo fare pure le domande sì bravo bravo faceva l'applausino l'avete visto? bravo bravo facciamo pure le domande faceva così allora io ho detto al capitano ultimo lei che è un servitore è stato un servitore dello Stato in prima linea ha perso dei colleghi eccetera cosa pensa di quei partiti che sono che hanno al suo interno indagati per mafia e non li cacciano non li buttano fuori li tollerano al loro interno capitano ultimo cosa ne pensa? e lui come avete visto non sapeva cosa rispondere e questa cosa qui è venuta fuori nella sua totale evidenza io non sapevo nemmeno mi hanno detto poi che ultimo è assessore in Calabria con la Santelli dove c'è anche Fratelli d'Italia e dove c'era Forza Italia sempre in quell'inchiesta di Gratteri ci hanno avuto un senatore di Forza Italia e un consigliere regionale di Fratelli d'Italia indagati per Ndrangheta il capitano ultimo non ha saputo rispondere e in quel momento c'è stato un silenzio da parte dello studio perché io ho colpito nel segno e chiaramente c'era l'insofferenza da parte del conduttore perché un agguato amici miei un agguato mediatico è una trasmissione quando viene fatta una trasmissione a tesi la tesi era il Movimento 5 Stelle Alfonso Buonafede e il governo Conte hanno liberato i mafiosi non sono bravi nella lotta alla mafia questa era la tesi e io gliela smontavo e siccome gliela smontavo davo fastidio a questa narrazione l'avete capito questo? vi è chiaro nella sua plastica evidenza? perché questo è successo ieri però poi c'è stato un colpo di scena clamoroso durante la trasmissione Giletti ha chiesto a me e poi a De Magistris se sapevamo se in quel posto doveva andarci Di Matteo ora io non ne sapevo assolutamente nulla nulla quindi ho detto a Giletti non ne so nulla mi dispiace questa cosa la dovresti chiedere a Bonafede o a Di Matteo perché io ma ci mancherebbe altro le trattative diciamo i contatti importanti riservati fra un grande magistrato antimafia e un grande ministro che ha fatto leggi antico perché attenzione poi vi spiegherò prima di venire a questo punto io vorrei ricordarvi una cosa sarò un malpensante io ma proprio Andreotti che era un esperto e che anche ieri questa cosa io l'ho ricordata ho detto scusate ma se siete così attenti alla lotta alla mafia come mai tollerate per esempio Martelli che è stato spesso vicino a Forza Italia come mai tollerate che ci sia un partito in Italia fondato da un condannato per mafia che si chiama Marcello Dell'Utri caro Giletti hai mai sentito qualcuno di Forza Italia che dicesse io mi vergogno di essere in un partito fondato da Marcello Dell'Utri lo hai mai sentito? no non lo hai mai sentito e incredibilmente questa cosa anche lì siccome da fastidio cercavano di si va bene va bene si va bene Dell'Utri si va bene va bene no si va bene un cazzo in nessun altro paese del mondo se un fondatore di un partito viene condannato per mafia quel partito è morto perché i giornalisti diranno sempre quel partito è fallimentare perché è stato fondato da un condannato per mafia quindi quel partito è caput in qualunque paese civile del mondo in Italia no perché? perché stanno zitti e se io vado a dire che Forza Italia è stata fondata da un condannato per mafia che è vero si chiama Marcello Dell'Utri improvvisamente do fastidio e mi parlano sopra e mi tolgono la parola e ho detto un'altra cosa noi siamo quel paese dove un sette volte presidente del consiglio e più di trenta volte ministro Giulio Andreotti nonché senatore a vita è stato considerato da un tribunale democratico della nostra Repubblica democratica vicino alla mafia fino al 1980 ma non punibile per sopravvenuta prescrizione anche questa cosa ha dato tanto fastidio c'era Martelli che era stato ministro con Andreotti quindi c'era tutto questo fastidio oddio ma perché già russo ma perché non ci fa raccontare la nostra storiellina la nostra tesi in cui inculiamo buona fede e continuo a parlare di altre cose perché questo gli fa paura lo capite ricordare che Andreotti si è salvato solo grazie alla prescrizione da una condanna per mafia ed è rimasto senatore a vita perché è rimasto senatore a vita questo dà fastidio a loro è chiaro? e quando io l'ho ricordato subito va bene già russo va bene si va bene va bene Andreotti si va bene Berlusconi va bene così parlano così fanno per cercare di dare idea allo spettatore questo qui è un disperato che spara cazzate voi ascoltate a noi questo è l'atteggiamento lo capite? ma nessuno ha avuto il coraggio di rispondere Martelli che faceva parte di quella stagione politica quando c'era Andreotti non ha avuto il coraggio di dire sì in effetti Andreotti si deve vergognare l'Italia doveva fare una grande riflessione però attenzione Andreotti si è salvato da una condanna per mafia seguitemi grazie alla prescrizione chi è che ha riformato la prescrizione nel processo in Italia? un signore che si chiama Alfonso Bonafede allora quando c'è qualcuno che fa la legge spazza corrotti riforma la prescrizione riforma la legge sulle intercettazioni che creava grandi problemi alla lotta alla mafia e queste tre cose le fa un signore che si chiama Alfonso Bonafede e poi si fa un racconto non soltanto ieri perché si sta facendo un racconto in cui Bonafede è un cattivone che scarcera è un mezzo furbetto che scarcera i mafiosi si sta colpendo quel signore e quella forza politica che hanno cambiato dopo decenni la prescrizione in Italia che ha salvato Andreotti da una condanna per mafia è chiaro il disegno vi è più chiaro faccio un disegnino faccio un disegnino qui ve lo faccio uno schemino facciamo un video ditemi voi cosa possiamo fare si sta colpendo e infangando quella forza politica che ha riformato la prescrizione e la prescrizione è quella che ha salvato Andreotti da una condanna per mafia e tantissimi politici da tantissime condanne vi ricordate quale dibattito c'è stato sulla prescrizione oddio la prescrizione oddio oh inciviltà eccetera eccetera proprio perché andavi a toccare i politici corrotti andavi a toccare i politici vicini alla mafia con quella riforma e andavi a togliere il tabù del fatto che Andreotti non è stato assolto dalle sue accuse e non è stato assolto è stato prescritto ed è rimasto senatore a vita in qualunque altro paese del mondo una sentenza così infamante avrebbe escluso l'ex senatore Andreotti da qualunque consesso civile in Italia è rimasto senatore a vita e tutti continuano a dire che è stato assolto e non è vero ok allora cosa è successo però diciamo in questa bailam molto complesso dove io cercavo di difendere le ragioni e cercavo anche di dire la verità cioè quello del DAP Basentini ha commesso dei grandissimi errori io l'ho detto ed è stato infatti non c'è più e subito Tartaglia che ha preso come dice il suo posto e poi adesso c'è Petralia ha immediatamente fatto una una circolare per evitare quegli errori e prima ancora Bonafede ha fatto un decreto legge per evitare il ripetersi di quegli errori però a quel punto ha telefonato Di Matteo quando ha telefonato Di Matteo voi capite che io per primo ero molto stupito perché nel momento in cui il giudice Di Matteo che da due anni non ha mai fatto nessun tipo di intervento su questo beh è chiaro che io l'ho ascoltato con molto rispetto è chiaro che io ho ascoltato quello che Di Matteo raccontava ha raccontato che gli era stato proposto da Alfonso Bonafede la possibilità di ricoprire un ruolo di primo di primo piano all'interno del ministero dandogli due chance quella di capo del DAP o quella di della dirigenza degli affari penali che era quella che ricopriva Giovanni Falcone proprio quando c'era come ministro Martelli che era presente in studio quindi erano entrambi due ruoli estremamente importanti allora il fatto che Di Matteo abbia detto questo e poi abbia raccontato subito mi ha detto dice ma lei ne sapeva no io non ne sapevo niente io non posso dire ragazzi non posso parlare di cose che non so è chiaro perché se io parlassi di cose di cui non ho contezza sarei un falsario e io mi piace smascherare i falsari non posso fare io il falsario è chiaro quindi quando Di Matteo ha detto quella cosa lì mi è stato chiesto un parere e io ho detto non ho alcuna contezza di quello che è successo ho grande rispetto del giudice Di Matteo sicuramente Alfonso Bonafede chiarirà questo lì è avvenuto la parte finale di questo di questo agguato perché io non ho capito bene come mai Di Matteo abbia fatto questa scelta io ho grandissimo rispetto per Di Matteo parliamoci chiaro Di Matteo è un uomo che ha messo la propria vita a repentaglio per combattere la mafia che ha messo la vita propria dei suoi cari della sua famiglia che ha rinunciato a vivere una vita normale gli affetti normali e sapete quanto Di Matteo sia stato osteggiato dalle altre forze politiche e sempre difeso dal Movimento 5 Stelle non ce lo dimentichiamo io non mi dimenticherò mai di una festa è una cosa privata ma secondo me è importante che voi lo sappiate qualche anno fa a proposito del declino di alcune forze politiche io ho sempre raccontato agli amici ma adesso lo racconto pubblicamente io capì che in Italia il centrosinistra era finito che il PD avrebbe avuto una batosta clamorosa alle elezioni del 2018 perché qualche anno prima io facevo le Iene sarà stato credo il 2016 e andai a una festa di un amico e questo amico aveva molti amici legati al Partito Democratico fra cui un deputato insomma avevamo questo amico in comune e c'era un giornalista una persona per bene che io conosco da tanti anni diciamo vicino al PD che durante una festa si parlava di altro si mangiava si beveva come tutte le feste normali a Roma disse che Di Matteo era un pagliaccio era una persona squallida era un imbarazzante cretino perché dava retta ai 5 Stelle e a Casaleggio a me quella cosa mi colpì perché insultare un magistrato antimafia solo perché peraltro non è che Di Matteo fosse in qualche modo candidato del Movimento 5 Stelle o vicino al Movimento 5 Stelle no aveva partecipato a Sum l'iniziativa di Davide Casaleggio era venuto a parlare di giustizia di mafia di lotta alla mafia del problema della prescrizione del problema della corruzione di cose normali di cui un giudice parla ma il semplice fatto che Di Matteo fosse stato in qualche modo vicino ai 5 Stelle Di Matteo è uno schifo e questa cosa me la disse un giornalista che è una brava persona per cui io pensai ma se il livello è questo il centro-sinistra italiano è finito perché il centro-sinistra italiano quando non c'era il Movimento 5 Stelle ha preso milioni di voti solo per il fatto di essere opposto a Berlusconi solo per questo perché la gente che non ne poteva più di Berlusconi dice piuttosto che Berlusconi voto quegli altri ok e quando c'è stata una vera alternativa al sistema della partitocrazia che si chiama Movimento 5 Stelle milioni di italiani hanno detto io non voto né questi né quelli anche perché si somigliano tanto proviamo una forza politica veramente nuova il Movimento 5 Stelle allora il Movimento 5 Stelle ha sempre difeso il dottor Di Matteo lo ha sempre vi ricordate anche le campagne io sto con Di Matteo vi ricordate il fatto che Di Matteo è stato linciato dalla stampa italiana è stato linciato per le sue posizioni sulla prescrizione sulla legge riguardante le intercettazioni sulla legge riguardante le misure riguardanti la corruzione sulla trattativa stato mafia noi siamo stati fra i pochi che abbiamo continuato a parlare di quel processo clamoroso sulla trattativa stato mafia in base al quale anche Dell'Utri venne condannato noi il fatto quotidiano di Marco Travaglio e pochissimi altri perché molti altri scrivevano sui grandi giornali per questo vi dico è un agguato sui grandi giornali sulle grandi tv il processo trattativa è una schifezza è un bluff è una minchiata queste cose qui leggevo lo scrivevano giornali importanti tipo il Corriere della Sera insomma non giornaletti fanzine ok fatti da quattro liceali e il giudice Di Matteo era sempre nel mirino di questi signori perché bisogna stroncare i 5 stelle bisogna parlare male di tutti quelli che loro difendono compreso Di Matteo questo è successo nella stampa italiana negli ultimi direi 10 anni ma diciamo almeno dal 2013 in avanti ve lo ricordate? non mi sto inventando niente cioè sono cose che sono agli atti io ogni volta quando parlo di documenti ufficiali di stampo scrivo ma insomma oggi non ho avuto il tempo di farlo ma mi pare che sto raccontando cose che tutti bene o male conosciamo allora nel momento in cui Di Matteo telefona e racconta che Bonafede gli aveva fatto queste proposte lui ha chiesto 48 ore di tempo e poi Bonafede quando lui è andato a Roma quando Di Matteo è andato a Roma gli ha detto guardi ho pensato che è meglio quell'altro non il DAP ma il dipartimento affari penali se ben ricordo quello che era stato di Giovanni Falcone insomma Di Matteo si rifiutò perché voleva andare al DAP questo è quello che ha raccontato Di Matteo chiaramente io rispetto sommamente il dottor Di Matteo naturalmente ha telefonato anche però c'è un problema nel raccontare questo Di Matteo ha ricordato che c'erano state delle intercettazioni dove alcuni boss si dicevano molto preoccupati per l'arrivo di Di Matteo per un possibile incarico a Di Matteo perché sapevano che il Movimento 5 Stelle aveva grande stima di Di Matteo è chiaro? allora collegare queste due cose è molto pericoloso perché io non so come sia andato il colloquio i colloqui fra Alfonso Bonafede e Nino Di Matteo due persone di cui ho enorme stima si è chiaro di entrambe e mi dispiace moltissimo che ieri sera sia avvenuto questo però di una cosa sono certo Alfonso Bonafede non è una persona che si fa intimidire da delle intercettazioni anzi quelle intercettazioni uscirono sul fatto quotidiano e mi sembra anche sull'Espresso se ben ricordo e certamente Alfonso Bonafede quindi le conosceva a parte il fatto che essendo ministro le conosceva già per altre ragioni ma certamente metto la mano sul fuoco del fatto che la scelta di pensare di Matteo per quel ruolo e non per quello non era legata al fatto che ci fossero stati dei boss o dei mafiosi che avessero detto quelle cose peraltro in maniera esplicita tanto da farsi sentire su questo ne sono certo allora poi cos'è successo ha telefonato Bonafede e lì si chiude l'agguato perché Bonafede io lo dico con molta onestà intellettuale e con grande stima mi pare che sia chiara la mia stima nei confronti di Alfonso Bonafede il ministro secondo me ha commesso l'errore di fare un giro un po' largo perché essendoci stata una telefonata da un punto di vista comunicativo parlo di Matteo pochi minuti prima lui avrebbe dovuto dire subito la risposta a quella cosa lì e dire guardate le cose sono andate così invece Alfonso prima ha voluto sottolineare che lui ha firmato 686 41 bis che è quello che ne ha firmati di più che è sotto scarta per questo che la sua vita è molto limitata e la sua libertà è molto limitata per questo ha voluto dire queste cose molto giuste perché vere ha ricordato che peraltro l'avevo già detto anch'io che ha fatto un decreto per evitare in futuro altre scarcerazioni che si è mosso immediatamente che è stato sostituito il vertice del DAP però secondo me ha fatto un giro un po' largo avrebbe fatto bene lo dico con l'affetto che mi è proprio e con la stima che mi è proprio per Alfonso Buonafede avrebbe fatto bene ad andare prima sul punto di Matteo e poi sul resto però attenzione quando Alfonso è andato sul punto di Matteo immediatamente Giletti lo ha incominciato a interrompere io ho notato questa differenza perché è incredibile tu hai lasciato parlare giustamente un grande magistrato antimafia che dopo anni telefona in un programma televisivo e quindi è giusto tutti in silenzio tutti in silenzio giustamente lasciando passare lui peraltro Di Matteo ha detto ma non è che il dottor Gianrusso l'onorevole Gianrusso ha detto quella cosa io ho detto no guardi io non ho detto assolutamente questo anche perché non ne so niente signor giudice per cui se è successo questo io lo sto scoprendo adesso ma non perché non volesse dire non lo sapevo ragazzi perché le cose riservate che fanno i ministri non è che le raccontano a tutto il mondo vorrei che fosse chiara questa cosa qui quindi io non avevo mai detto nulla su questo se non non lo so parlatene con gli diretti interessati perché Di Magistris secondo me qualcosa la sapeva e continuava a insistere io so che ci sono stati contatti che ne dici a Russo che ne sai non lo so e credo che sia giusto che non lo sapessi perché se ci sono dei contatti riservati non lo devo sapere io lo deve sapere Alfonso Bonafede e i suoi più stretti collaboratori non certo io che faccio il parlamentare europeo e con tutta l'amicizia e l'affetto faccio altro ok allora nel momento in cui Bonafede ha chiamato e appena Bonafede con un po' di lentezza e di giro un po' largo si è messo a parlare della cosa Giletti lo ha interrotto cioè tu interrompi un ministro della Repubblica dai la parola a Martelli gli parli sopra eviti di fargli raccontare la sua versione dei fatti lo capite che questa è una scelta comunicativa precisissima ve ne siete resi conti conto o no perché quella è una scelta comunicativa precisissima cioè non facciamo spiegare bene a Bonafede cosa è successo con Di Matteo e infatti il risultato è stato che non è stato molto chiaro quello che ha detto Bonafede magari perché c'è stata un'incomprensione fra loro non voglio difendere a spada tratta tutto quello che fa Bonafede però vi voglio raccontare in maniera asettica da un punto di vista della tecnica della comunicazione della costruzione di una tesi capite dell'inculcare nel pubblico quella tesi la tesi è Bonafede è inadeguato a fare il ministro è inadeguato a fare la lotta alla mafia quando invece Bonafede è quello che ha fatto lo spazzacorrotti che ha fatto la riforma della prescrizione che ha fatto la legge sulle intercettazioni che ha fatto firmato diciamo cofirmato il codice rosso sotto il suo ministero è stato anche valato il 416 ter cioè il Movimento 5 Stelle da sempre c'è Nicola Morra c'è Mario Giarrusso adesso è stato espuzzo insomma è una persona sicuramente possiamo dire che ha lottato contro la mafia certamente insieme a Nicola Morra insieme ad Alfonso Bonafede credo a tutti noi nessuno può essere tacciato di morbidezza nei confronti della mafia infatti le nostre liste non sono mai state inquinate da personaggi a differenza di tutte le altre forze politiche di tutti i partiti tranne la forza politica che si ha Movimento 5 Stelle che per fortuna non è un partito spero non la sarà mai non è stato mai inquinato da questo però nel momento in cui Bonafede telefona prima lo fai parlare poi appena inizi a parlare della questione di Matteo Giletti prima gli parla sopra poi gli toglie la parola e la dà a martelli poi Bonafede vuole finire e Giletti dice no scusate io c'ho il mio programma e passa la parola a Briatore voi lo sapete chi è Briatore? Briatore è un pregiudicato che a un certo punto si è dovuto allontanare dall'Italia perché pendeva su di lui una richiesta di ordine di carcerazione per reati gravissimi reati gravissimi e noi siamo stati a parlare per ore di lotta alla mafia attaccando il governo attaccando Bonafede eccetera eccetera e abbiamo tagliato il ministro di grazia e giustizia per dare la parola a un signore a un pregiudicato a un pregiudicato che è dovuto scappare dall'Italia ed è potuto tornare solo in seguito a come dire vantaggi legati a vantaggi carcerari insomma non è finito in carcere perché è telato perché è scappato questo è Briatore lo sapete questo? lo sapevate? noi abbiamo questo il simbolo di ieri sera è quella cosa lì prima il talbellone elettronico con tutti quelli scarcerati come se l'avesse fatto il governo poi io parlo e mi parla di sopra e non mi fa spiegare le cose poi chiama Di Matteo clamoroso racconta un episodio importante attenzione non voglio dire che Di Matteo no è un episodio importante e quando chiama Bonafede prima non lo fa parlare sente che Bonafede è un po' emozionato allora gli parla sopra gli toglie la parola eccetera e poi no scusa mi è finito il tempo deve parlare Briatore Briatore delle sue vacanti cosa parla? io non lo ho certamente guardato Briatore ma perché non hai ricordato che Briatore è un pregiudicato che Briatore è stato un latitante internazionale che è scappato dall'Italia perché aveva una condanna perché no? allora tu vuoi fare una lotta contro la criminalità contro la mafia contro la corruzione o vuoi fare una tesi in cui attacchi un ministro e attacchi il governo io questo vorrei sapere quello è un agguato non hai detto un cazzo a Giorgia Meloni di tutti i suoi indagati per mafia silenzio e poi hai tolto la parola a Bonafede per darla a Briatore a un pregiudicato a un ex latitante questa è stata la trasmissione di ieri questa è la tecnica è chiaro? io ci ho messo un'ora per spiegarvela e mi dispiace perché non ho risposto alle vostre domande ora chiudo dicendo questo allora cosa penso di questa vicenda? penso che sia una vicenda triste perché io ho un'enorme stima sia di Alfonso Bonafede che di Nino Di Matteo ci mancherebbe altro due persone che in maniera diversa ciascuno a proprio modo hanno fatto della lotta alla mafia una priorità assoluta quindi il fatto che sia venuto fuori e che strumentalmente si sta utilizzando questa telefonata per attaccare Bonafede mi fa una profonda tristezza mi sembra molto scorretto molto triste molto sbagliato mi dispiace leggere da parte di alcuni attivisti o accuse a Di Matteo non lo fate non lo merita o accuse a Bonafede non lo fate non lo merita non facciamo i tifosi ragazzi non ci perdiamo nel tifo non c'è un tifo Bonafede contro Di Matteo non esiste questa partita è una partita che un certo tipo di informazione sta cercando di mettere in piedi per screditare chi ha riformato la prescrizione chi ha fatto una vera legge anticorruzione lo spazzacorrotti chi ha fatto una seria legge riforma delle intercettazioni è chiaro? questo è successo ieri si sta inventando una partita per avere tifosi da una parte e tifosi dall'altra mi sono arrivate anche nelle chat questa è una chat di Whatsapp è una chat di Telegram oltre che sulla mia pagina Facebook dove mi scrivete in tanti e vi ringrazio mi sono arrivate notizie del tipo Bonafede fa schifo oppure Di Matteo fa schifo no nessuno dei due fa schifo sono due italiani che vivono sotto scorta proprio per essere in prima fila nella lotta alla mafia io mi auguro che ci sia un chiarimento fra loro due però di una cosa sono certo ci possono essere incomprensioni umane delusioni problemi fra le persone perché fa parte del nostro essere umani non ci può essere la minima possibilità di sospettare anche solo sospettare che da parte di Alfonso Bonafede ci sia stata una mano morbida nei confronti della mafia o la paura della reazione della mafia questo non è successo chi lo sostiene sostiene il falso allo stesso modo vi invito a non dare giudizi negativi nei confronti del giudice Di Matteo perché il giudice Di Matteo è in prima linea contro la mafia hanno avuto un'incomprensione i due ci sta Di Matteo si è dispiaciuto perché gli è stato proposto l'altro ruolo e non quello del DAP e quindi ha scelto ho sentito dire la parola orgoglio di rifiutare quella proposta ci sta mi dispiace mi dispiace molto ma ci sta ma da qui a dire che Bonafede ha avuto paura dei mafiosi e quindi non ha nominato Di Matteo o viceversa che Di Matteo si è prestato a un gioco per screditare Bonafede facendo una telefonata messa d'accordo eccetera no ragazzi non è una dietrologia di cui abbiamo bisogno raccontiamo la verità spero di avervela spiegata bene su come sono state fatte queste scarcerazioni articolo 147 del codice penale sul perché sono state fatte e sul fatto che il Curitalia non c'entra nulla e il ministro Alfonso Bonafede non c'entra assolutamente nulla ora io vorrei finire adesso anche perché parte la diretta del nostro amico comune Andrea Scanzi allora leggo qualche domanda e chiedo scusa perché sono migliaia di domande che avete fatto e io non posso rispondere a tutti voi ringrazio Giovanni Giovanni Tieri io mi auguro che sia stato chiaro alla fine di questa lunga diretta perché ho chiamato Agguato Televisivo quello che è avvenuto ieri anzi facciamo una cosa io vi ringrazio di avermi seguito così tanti siamo arrivati a quasi 12.000 persone connesse e stiamo scalando perché giustamente molti vanno a ascoltare Scanzi ed è importante anche il punto di vista di Andrea Scanzi su questo vi dico una cosa però se servirà farò una diretta più tardi oppure scriverò un messaggio che vi invito a poi a diffondere se vi piacerà perché non possiamo accettare che venga raccontata una realtà così distorta che una tesi così in malafede venga spacciata per la verità e purtroppo la telefonata di ieri di Di Matteo e l'incomprensione tra lui e Buonafede aumenterà la possibilità che questa bugia venga spacciata per verità lavoriamo tutti insieme raccontando davvero la verità scrivendola sulle nostre bacheche facendola circolare sui social su whatsapp sulle chat e dappertutto perché non ci meritiamo di colpire né uno né l'altro che hanno sempre lottato la mafia io vi saluto e vi ringrazio ci vedremo o domani o più tardi deciderò se fare una diretta o se fare semplicemente un messaggio adesso ascoltiamoci l'amico Andrea Scalzi grazie a tutti